Salve a tutti! Durante il periodo di look down, quello del 2020, febbraio, marzo, aprile, ho passato il tempo a realizzare una marea di cose e relativi video. Uno dei tanti è stato il tavolipede, che è veramente la non plusulta del riciclo, perché era tutta 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 roba da buttare. E quindi ho realizzato questo tavolinetto e poi ho giustamente fatto il video. E questo video lo sto riproponendo perché quello vecchio lo devo togliere, in quanto ho utilizzato l'editor di Microsoft e relative musiche e chiaramente adesso ho dei problemi di copyright. Quindi devo rieditare ex novo il video e quindi ne approfitto per chiacchierarci un po' su. Il tavolipede ha svolto anche una funzione, come dire, importante durante il look down, perché l'ho portato in un bar dove normalmente espongo le mie cose e è stato lì di fuori con il dispenser del gel, fino a che poi non è arrivato veramente il look down, quello definitivo e quindi è rimasto chiuso dentro il bar perché il bar era chiuso. E via, adesso andiamo a vedere praticamente tutto il processo produttivo del tavolipede. E via, adesso andiamo a vedere. E via, adesso andiamo a vedere. E via, adesso andiamo a vedere. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti